Allora siamo qui a fine stagione, a fine campionato della C1 con il presidente Pietro Lafrocia. Presidente, oggi siamo un pochettino più rilassati, più tranquilli, il campionato è andato abbastanza bene, però lascio a lei dire la classifica, a quanti punti siamo arrivati e l'ottimo campionato che abbiamo fatto anche con i ragazzi degli allievi. Finalmente siamo giunti alla fine di questa stagione entusiasmante, ma allo stesso tempo molto faticosa, abbiamo intrapreso un cammino sconosciuto e difficilissimo sia con la prima squadra. Abbiamo completato il campionato di C1, massima competizione regionale, chiudendo al quinto posto, quindi penso che per una neopromossa, per una matricola è un buon risultato, anche perché tra le neopromosse insieme al Venosa siamo stati i primi, addirittura chi ci ha battuto nello spareggio, l'anno scorso si è piazzato a 5 punti di distanza da noi, settimo in classifica, anzi ottavo, scusi. Per cui possiamo dire che è stato veramente un ottimo campionato, e per quanto riguarda gli allievi non posso far altro che fare i complimenti al mister Caputo e ai ragazzi, il mister il quale si è sobbarcato quasi interamente da solo il carico di gestire una squadra di ragazzi che quasi per la prima volta si affacciava al mondo del calciacinque, e quindi ha dato un'impronta prima al singolo giocatore e poi all'intera squadra, sia dal punto di vista tattico o tecnico, possiamo dire che comunque anche i ragazzi si sono messi nella condizione di farsi guidare dal mister e quindi hanno raccolto parecchie soddisfazioni, ma non soltanto dal punto di vista numerico del risultato, ma anche da un punto di vista di esperienza, di formazione, perché si sono confrontate con culture diverse, magari ci sono ragazzi da noi che ancora non sono uscite fuori dai confini territoriali, comunali, quindi già confrontarsi con ragazzi provenienti da culture diverse, dalle nostre più ampie, dalle grandi città lucane, tipo Potenza, Matera, Tricarico, Venosa, comunque è un momento di confronto e penso che possa fare soltanto del bene a questi ragazzi non ancora diciottenni, per cui... È stato un grande risultato? Sì, è stato un grande risultato, poi vorrei sottolineare anche la prova della prima squadra, che grazie anche a mister Puliccia è aiutata ad affrontare un percorso sconosciuto a noi, quindi coadiuvato anche dall'esperienza dei veterani, che diciamo che questa squadra l'hanno fatta, come il capitano Antonio e Luca Caputo, che non hanno dato soltanto un contributo in campo, ma anche fuori dal campo, aiutando il mister magari anche lui a conoscere meglio il mondo del calcio a 5, perché per lui era anche la prima esperienza di allenatore di C1, però devo dire che si è fatto sentire, si è vista la sua mano, per cui lo ringraziamo per quello che ci ha aiutato a ottenere. Bisogna comunque dire che per il futuro noi vorremmo migliorarci, quello è il nostro auspicio, per cui faremo degli interventi mirati, se è possibile, per rinforzare la squadra, sia dall'esterno che prelevando alcuni elementi dal settore giovanile, che mister Caputo ha fatto sì che siano già pronti per fare il passaggio alla prima squadra. Allora Presidente, una piccola domanda le voglio fare. Abbiamo visto che gli esordi vanno bene per tutti, l'esordio da Presidente, esordio nella C1, esordio come allievi, abbiamo fatto benissimo. Poi però l'anno prossimo non siamo più esordienti, e quindi state pensando magari di fare una polisportiva, visto che a Vigianello abbiamo anche altre realtà, non solo gli allievi del Castrum e la C1, ma abbiamo anche altri ragazzi pulcini, esordienti e altre categorie? Beh, devo dire che quest'anno, grazie allo straordinario successo delle due squadre, abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte anche di genitori di ragazzi che vogliono che i loro figli entrano a far parte del mondo Castrum, perché hanno visto che comunque è un ambiente sano, è un ambiente dove ci si diverte, ma allo stesso tempo si cerca di indirizzare i ragazzi a seguire le regole, ad avere rispetto dell'avversario, ad avere rispetto delle decisioni arbitrali, anche se magari le consideriamo sbagliate, ad avere un comportamento dentro e fuori dal campo che sia esemplare. E quindi questo mi fa piacere, per cui noi stiamo raccogliendo queste richieste, abbiamo moltissimi progetti nel cassetto, e man mano che cercheremo di valuteremo questi progetti, quando ci rendiamo conto che questi progetti potranno essere fattibili, allora magari per l'anno prossimo vedremo un attimo innanzitutto di confermarci sul livello di quest'anno e se è possibile, se ne abbiamo la possibilità di fare un passettino avanti, quindi creare anche un settore di giovanissimi, di ragazzi che si affacciano, magari ragazzi nell'età di 8-10 anni, che magari per loro veramente si affacciano la prima volta al mondo del calcio, e quindi cercheremo di avere anche una terza squadra, però questo comporterà più sacrificio, quindi dovremmo stare con i piedi per terra, valutare bene, però io sono fiducioso, perché la società, io diciamo sono la punta dell'iceberg, però come si sa bene, l'iceberg c'è una parte immersa, che è molto più grande della parte che è visibile, per cui posso dire veramente che ci sono degli elementi nella società che lavorano magari dietro le quinte, che veramente, soprattutto grazie al loro contributo, si riesce ad andare avanti, quindi adesso colgo l'occasione anche per ringraziarli, ringrazio Giovanni Fiore, ringrazio Mario Mostro Lorenzo, che comunque ci ha accompagnato in tutte le trasferte, ringraziamo Franco Petillo, ringrazio Vincenzo Libonati, il vicepresidente, ringrazio appunto per l'ennesima volta, e non smetterò mai di farlo, Angelo Caputo, che oltre nelle vesti di dirigente, ma soprattutto nelle vesti di mister, mister che da solo si è portato avanti un settore giovanile, e ringrazio comunque Gianni Gallo, che comunque ha dato sempre il suo contributo, ringrazio anche il presidente uscente, Luis Vizzino, che anche se non ufficialmente, comunque è stato sempre, è stato sempre, diciamo, dietro la squadra, l'ha sempre seguita, e ringraziamo infine i veterani del Castrum, Antonio Lafroscia e Caputo Luca, i quali, diciamo, rappresentano l'anima di questa squadra. Hanno dato una forza, anche emotiva ai ragazzi, nel momento di bisogno. Certo, certo, diciamo che sono, per il momento, loro sono il motore di questa squadra, speriamo che riescano a cedere presto il testimone, ai nuovi che avanzano. Allora, Presidente, ho una piccola osservazione da parte nostra, quest'anno, dopo tanti anni, abbiamo sentito parlare di Vigianello. Ecco, parlare di Vigianello in uno scenario calcistico regionale, non perché gli altri anni non abbiamo sentito parlare, però, penso che il campionato che abbiamo affrontato aveva un'importanza notevole. Il nostro piccolo paesello, qui, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, andare a Potenza e parlare di Vigianello, andare sul Materano e parlare di Vigianello, io penso che è stato un grandissimo risultato, a prescindere dall'aspetto calcistico. Prima di rispondere alla tua domanda, se di domanda si tratta, vorrei ringraziare, infine, ma non per ordine di importanza, come membro societario, Giuseppe Attadia, comunque è stato notevole anche il suo contributo, per cui mi scuso per questa dimenticanza. Niente, riallacciandomi a quello che hai detto, diciamo, che entrambi i campionati sono andati oltre ogni più rosea previsione, abbiamo combattuto alla pari con squadre molto più blasonate, organizzate di noi, siamo entrati a competere con squadre che avevano un bacino di utenza oltre le 50.000 persone, per cui noi portare un paesino come Vigianello, che si trova ai confini della Basilicata, a lottare alla pari, oserei dire, almeno in casa, con squadre comunque semiprofessionistiche che hanno tale bacino d'utenza, posso dire che è una grande soddisfazione. Abbiamo ricevuto, devo dire, anche i complimenti per la cura dei dettagli e per il modo in cui stiamo sviluppando questo progetto che a tutti noi sta molto a cuore. Per cui posso soltanto ringraziare i ragazzi, posso ringraziare il mister, i membri della società, il pubblico che ci ha sostenuto, tu che comunque ci hai fornito questo grandissimo servizio, sottolineo a titolo gratuito, e niente, per cui vi aspetto alla prossima stagione, noi saremo più determinati e motivati e speriamo di raccogliere altrettante soddisfazioni. Benissimo, Presidente, guardi, solo una piccola riflessione, io un applauso grandissimo, lo farei anche a tutte quelle persone che il sabato pomeriggio o la domenica mattina sono venuti, ci hanno sostenuto, quest'anno ne ho visti proprio tanti, sono stati numerosi. Certamente, come ho detto prima, ringrazio tutte le persone che comunque ci hanno sostenuto, anche i membri esterni alla società, ringrazio inoltre Serena Rizzo che ci ha fornito un ottimo servizio fotografico, Gianluca Conte che grazie ai suoi articoli ha dato quella chicca di... Anche qualche arrabbiatura. Anche qualche arrabbiatura, ma fa bene. Ringrazio Antonio Rizzo per il pagellone di fine partita che ha dato anche altre arrabbiature. E nel bene e nel male comunque hanno contribuito... Sono stati degli stimoli. Certo, sono stati degli stimoli e hanno contribuito a rendere ancora migliore questo prodotto che quest'anno abbiamo fornito. Per cui, un grazie a tutta Vigianello che comunque ci è stata vicino. Allora, Presidente, sempre e forza Castro. Sempre e forza Castro. Ci vediamo l'anno prossimo e alla prossima stagione. Noi del Castro di Vigianelli.it seguiremo anche i calciatori del Castro nei tornei estivi e inizieremo alla preparazione insieme con loro. Ok, allora, questa stagione la salutiamo e allora, un in bocca al lupo per la prossima, Presidente. Crepi il lupo alla prossima stagione. Ciao. 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 �a.